Se fra un paio d'anni riuscissimo ad osservare tracce di microorganismi viventi su Marte o addirittura piccoli animali viventi negli oceani d'Europa oppure tracce di civiltà evolute in altri pianeti sarebbe una scoperta bellissima! No, sarebbe una notizia tremenda significherebbe che la nostra fine è ormai vicina. Ciao e bentornati sul mio canale Oggi vi condurrò in un affascinante viaggio alla ricerca di intelligenze aliene Risponderemo alla domanda Siamo soli nell'universo? Il nostro punto di partenza è il 1961 Frank Drake sta ideando il progetto SETI Search of Extraterrestrial Intelligence Un progetto per cercare intelligenze aliene Il professor Drake sta preparando la conferenza inaugurale e mette giù un elenco di elementi per capire quanto possa essere fattibile entrare in contatto con una civiltà aliena Una volta finito l'elenco Drake guarda il suo foglio Caspita! Ma se moltiplichiamo tutti gli elementi fra di loro dell'elenco otteniamo un numero Il numero di civiltà aliene esistenti Fantastico! Abbiamo un'equazione in grado di dirci quante civiltà aliene ci sono là fuori E quant'è questo numero? Zero? Uno? O più grande? Esistono delle civiltà evolute in grado di comunicare con noi? Sì! E sono 23! Sembra di vivere una scena del bellissimo romanzo Guida Galattica per autostoppisti Nel romanzo si cerca la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, sull'universo e su tutto quanto Dopo un'elaborazione di 7 milioni e mezzo di anni Quindi il computer finalmente dà la risposta alla domanda fondamentale La risposta alla domanda fondamentale Sulla vita, l'universo e tutto quanto È 42 Il nostro professor Drake già prima di Guida Galattica per autostoppisti aveva dato la risposta alla domanda fondamentale 23 Secondo la sua equazione appunto ci sono ben 23 civiltà aliene in grado di interagire con noi Nel 1972 e nel 1973 le sonde Pioneer 10 e Pioneer 11 partono all'esplorazione del sistema solare Sono i primi oggetti costruiti dall'uomo a superare Giove e Saturno Ora vagano a più di 12 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra alla ricerca di qualche forma di vita aliena Ma quando queste sonde saranno intercettate da una civiltà aliena come farà a capire che si tratta di un prodotto di un'altra civiltà? Semplice! Le sonde al loro interno contengono una lastra disegnata da Frank Drake e Carl Sagan Su questa lastra sono incise due figure che rappresentano un uomo e una donna nudi ed intorno varie altre figure che indicano la sonda e varie altre scoperte dell'uomo Ma fermiamoci un attimo C'è qualcosa che non torna Perché finora non abbiamo ricevuto nessuna risposta da civiltà aliene? Perché dovunque si guardi l'universo appare vuoto e desolato che profuma di morte? Dove sono finiti tutti quanti? Ed è esattamente questo il paradosso di Fermi Enrico Fermi, fisico e premio Nobel ha posto questa apparentemente ingenua domanda Dove sono tutti quanti? Apparentemente appunto In realtà questa domanda mette in discussione tutto quanto abbiamo calcolato finora Fermi non ci ha chiesto se siamo soli nell'universo Ma dato che là fuori è molto probabile che ci sia un'altra forma di vita intelligente in grado di interagire con noi Dov'è? Perché nessun segnale? Forse le probabilità che la vita sbocci spontanea nell'universo sono molto più basse di quello che pensiamo Magari essere nel giusto punto di una galassia né troppo vicino al centro né troppo lontano Magari essere alla giusta distanza da una stella essere su un'orbita ellittica inclinata ma non troppo avere il giusto numero di satelliti naturali e della giusta dimensione come la luna è molto difficile O magari la vita là fuori non è necessariamente come la si osserva sulla terra Magari le civiltà aliene potrebbero non essere come noi con due occhi e una testa Magari la vita aliena addirittura potrebbe non essere basata sul carbonio Però queste forme di vita alternative così strambe sembrano solo delle ipotesi teoriche L'unica forma di vita che ad oggi siamo in grado di sperimentare è quella che abbiamo qui sulla terra Non abbiamo prove di altre forme di vita Ma allora siamo veramente soli nell'universo? Analizziamo più nel dettaglio La vita dovrebbe così svilupparsi Innanzitutto è necessario il giusto sistema stellare Poi molecole riproduttive come ad esempio l'RNA Poi la comparsa della vita a cellule singole Successivamente la vita monocellulare complessa Poi la riproduzione sessuale, la vita multicellula Gli animali con cervelli grandi che usano attrezzi Fino ad arrivare a noi ora E poi nel futuro ad una colonizzazione interstellare Finora nessun segnale di intelligenza aliena pare provenire là fuori dall'universo Possiamo dare una spiegazione a tutto ciò Possiamo ipotizzare l'esistenza di un grande filtro Un filtro quasi impossibile da superare I filtri hanno la funzione di trattenere, di lasciar passare solo qualcosa E di non far passare tutto il resto Pensiamo all'aria condizionata nella nostra auto Lì il filtro serve per trattenere il polline e tutte le particelle Che altrimenti renderebbero irrespirabile l'aria nell'abitacolo In questo caso però il grande filtro agisce nel tempo Facciamo un esempio Per noi un filtro nel tempo può essere l'età Che so il limite di 110 anni In questo momento sul pianeta Terra sono in vita più di 7 miliardi di persone E solo Cecilia Seghizi, anni 111, ha superato questo filtro Il limite di 110 anni di età Il grande filtro è un'età limite nelle fasi evolutive di ogni forma di vita nell'universo Il grande filtro può trovarsi dietro di noi, cioè nel nostro passato Oppure davanti a noi, cioè nel nostro futuro Se posto nel passato significa che è collocato in qualche passaggio Che la vita ha compiuto per evolversi fino ad oggi Quindi se ciò è vero significa che nell'universo siamo l'unica forma di vita ad essere arrivata fino ad oggi L'unica forma di vita ad essersi evoluta in un'intelligenza come la nostra Siamo un po' tutti Cecilia Seghizi, la nostra nonna di 111 anni Questo però ci mette tristezza Siamo stati troppo ottimisti nei calcoli precedenti sull'esistenza di altre civiltà Non abbiamo tenuto conto del grande filtro Lo svilupparsi di una forma di vita evoluta come quella terrestre è molto, molto difficile E allora quasi sicuramente in tutto l'universo noi siamo soli Non c'è niente là fuori Nessuno Se invece il filtro è collocato davanti a noi nel futuro Allora il peggio deve ancora arrivare Siamo come un marinaio che guarda lontana, bassa sull'orizzonte, la tempesta che sta arrivando Con il filtro posto dinanzi a noi Allora nell'universo è molto probabile che si siano sviluppate altre forme di intelligenza aliena diverse dalla nostra Anzi l'universo pullula di forme di vita Ma tutte o quasi non sono riuscite o non riusciranno mai a raggiungere un grado di sviluppo tecnico tale da consentire i viaggi interstellari Tendono ad estinguersi prima Forse perché non riescono ad abbandonare in tempo il loro pianeta prima che la loro stella esploda O prima che le risorse del pianeta ospitante finiscano o magari si autodistruggono Una strage Il grande filtro non lascia scampo Ora ogni volta che una missione parte alla ricerca di forme di vita nel nostro sistema solare o nella nostra galassia Non c'è da star contenti ad una scoperta positiva Più le tracce di vita che si trovano sono complesse Più è probabile che il grande filtro sia dinanzi a noi Trovare dei batteri sarebbe poco male Piccoli animali sarebbe preoccupante Vita intelligente sarebbe allarmante Le rovine di una civiltà extraterrestre? Tremendo Non allarmiamoci Se il grande filtro è posto dinanzi a noi vuol dire che là fuori ci sono altre forme di vita intelligenti oltre alla nostra Civiltà aliene pronte ad accoglierci Magari chissà extraterrestri che hanno già letto le placche contenute nelle sonde Pioneer 10 e Pioneer 11 Sta a noi la scelta Cercare di sfruttare al massimo la nostra intelligenza per superare in colmi il grande filtro e finalmente Incontrarle o continuare a sfruttare allo stremo le risorse del nostro pianeta Scomparendo addirittura prima di giungere al grande filtro Perdendo per sempre questa unica e straordinaria occasione Grazie per avermi guardato fin qui Se il video ti è piaciuto questa volta metti mi piace E ricordati se non l'hai fatto di iscriverti al mio canale A presto Grazie per avermi guardato fin qui